Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avrete detto dal titolo, quest'oggi finiamo la giornata in Carpodromo con la Rubazienne Ho visto che il precedente video ha raggiunto i like richiesti Quindi ragazzi, 100 like questo video non è da meno E prossima volta quindi pescheremo feeder contro Rubazienne E vedremo chi piglia di più Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Direi di non perdere altro tempo e via con il video Allora, alla prima e alla seconda frenata ti credo di andare piano Perché è una lava dritta E una lava dritta si Adesso che abbiamo appena finito di mangiare e viene ricominciato Dai, dai che è forte, dai che ti appunto, dai, 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 dai Beh, magari è un alboreo Ok non è un alboreo Fisone Fisone Dai eh Dai eh Magna però, ma non è vero io, domani è uomo Tira il fissone Orchidi Orchidi Dai Arone, vieni su Arone Dai Arone, vieni su, vieni su Arone Non la vedo male quella punta No, non so che fatti pigà Ma dai Buono Fisone Fisone Ancina Carpetina Carpatina Sì, sì, un chietto Doubles Doubles andiamo in un guia spero e voglio tira verso l'alto il pistrello il pistrello il pistrello magico non quello sei impiantato? si ma l'alto è qualcosa di sporco buono vieni su manco fa meno da gaetante no ciao non scappare guarda io ho sempre fatto una cosa punta in alto tanto non ta' l'albero tanto non ta' l'albero guarda che bel pistrello pistrello non ma ma bene sispite ma Ho preso. Ce l'ho. Porco. Dai che ho preso un sacco. Eh questo è staccato. Un sacco di filo. Non c'è più buono. Non c'è più buono. E non c'è più buono. E tricche tracche e tricche baldracche. Presidente Topolino. E tricche tracche e tricche baldracche. Non c'è più buono. Butto è butto è butto è. Valera. Non c'è più buono. E' tipo che qua a me lo sa. No. No. E io. Ti ho detto. La testa non è più buona. Miiancita. Miiancita. E' miiancita. E' un sacco. Sono venute. E' una cosa che erano. ..ma che non mi fa. la roba a canna in acqua no no l'ho detto che vuoi che altro c'è rossi c'è fermo mi porta via e vabbè ogni tanto che sta o la sognia c'è pa per segal no carpettina scura ma carpettina bisogna prendere la maggot clip così ti mette sui bigattini anche sull'amo grosso eh vabbè ma ho visto che anche le carpe gradiscono con il sogno qua dopo di aromi oh mystic spice bait smoke c'è il bait smoke eh page 35 exercise number 4 mmm senti che buono sembra buono sembra buono sembra buono ehm siroppo paga tosse le tipo erbe erbe e che erbe odio canù guarda i bigatti all'aglio fishon 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 guarda un fishon si attacca un fishon un fishon no scherzette si si ha fatto tutto pasto il lì anche cia pa del volo piccio un piccone un piccone pur da piccone no scherzo ti ho visto pur da piccone come vai in arco pur da piccone come si tirano fuori pur da punta alta giù di guadino basta bonti cosa ti sa non ti vieni mica eeeh 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 questa carpa è proprio bella eeeh eeeh sta fermo eeeh 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 no era un scarasto eeeh 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 non sai che questo qua c'è grosso ci sono dovuto fare la guadinata doppia il mio non vuole venire giù al massimo e tutti uguali ma vai mona c'è un'alborea penso a pipì quella di oggi che sboro un bel piscio mi alza il canale lui va più in basso come l'ultimo piscio no e che piscio ok un mini piscio ok 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 ciao 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 ciao